Sicuramente la prima partita è andata un po' malina, anzi direi molto. Siamo comunque una squadra nuova, quindi alcuni si devono ancora conoscere, però speriamo di rifarci con la partita di oggi, anche perché poi i gironi sono brevi e quindi rischiamo. In bocca al lupo. Oggi dobbiamo vincere perché il parnello è corto e la prima l'abbiamo persa. Dobbiamo vincere assolutamente, la squadra c'è, ci dobbiamo solo affiatare. In bocca al lupo. In bocca al lupo In bocca al lupo. In bocca al lupo. In bocca al lupo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.